Io sono entrato nel programma con delle problematiche e ritrovarmi poi dopo a raffrontare un'altra relazione era come una cosa forzata, non ho voluto ne prendere in giro lei, ne prendere in giro me stesso. Ho bisogno del tempo, del tempo per me stesso, ho bisogno di capire quello che voglio. Quindi la storia con Sofia, chiusa. Giusto? Sì, sì, se no sarebbe qua, nel senso non ci siamo frequentati, non ci siamo vissuti, quindi per questo. Ho visto anche Anna e ci siamo visti tre volte, una per darci le cose, due abbiamo un po' discusso. Io gli ho chiesto scusa di nuovo per tutto quello che è successo e ho capito, ho preso anche una decisione importante con lei che è la stessa cosa, non prenderla in giro perché lei si merita tutto il bene in questo mondo.